Qual è l'obiettivo che mira questo convegno? L'obiettivo è quello di mettere insieme, come si vede in platea, infermieri, medici, avvocati. Abbiamo un'ampia rappresentanza anche di altre professioni sanitarie, ostetiche, tecniche di radiologia, fisioterapisti, tecnici della prevenzione. Li abbiamo messi attorno a un tavolo del DDL Gelli che ci sembra essere uno dei temi più attuali. La speranza è che nel tutelare sempre il cittadino, perché chiaramente saremo sempre a fianco al cittadino, si riesca a mettere su una legge che tuteli sicuramente anche le professioni sanitarie. Un'altra domanda, come mai due esponenti del PD? È un fatto casuale, perché il relatore Onore Gelli è del PD, la senatrice Silvestre, che io dico essere del PD, ma sicuramente è trasversale, nel senso che lei, ma non devo essere io a dirlo, nella sede del Senato non rappresenta gli infermieri, ma rappresenta, io spero, anzi sono certo, tutte le professioni sanitarie. È solamente un fatto casuale, non c'è stato altro motivo se non questo.